Salve sono Urbano della Sanimoreno Volkswagen Audi di Fuscecchia oggi vi presento la nuova arrivata del nostro parco vetture usate si tratta di questa bella Audi Q3 dell'anno 2016 ed è un 2000 turbodiesel 150 cavalli cambio S-tronic quattro ruote motrici quindi un allestimento veramente completo in tutto e per tutto di questo bel coloro grigio scuro antracite metallizzato e come potete vedere si presenta in un modo veramente eccellente nessun graffio nessuna ammaccatura verniciatura bella e brillante andiamo a vedere adesso un po' di specifiche di questa vettura come il vanno bagagli bello e ampio qui non abbiamo la ruota di scorta perché essendo la quattro ruote motrici viene messo il kit di emergenza sensori di parcheggio posteriori luci posteriori a led cerchi in lega da 17 pollici con gomme invernali dopo vedremo proprio lo specifico delle gomme rifiniture esterne cromate internamente abbiamo gli interruttori dei quattro metri elettrici e l'interruttore per la regolazione degli specchietti esterni con in più la posizione per ripiegare gli specchietti fattori elettricamente andiamo adesso a vedere alcune immagini del piscotto e dopo vi sarà spiegato tutte le specifiche che abbiamo e andiamo a vedere anche le immagini della tappezzeria interna come il nostro solito è stata lavata igienizzata a vapore con questa lavorazione specifica per renderla veramente bella e pulita il risultato della nostra lavorazione quindi di avere gli interni la tappezzeria interna completa veramente eccellente presentabilissima profumata un'accoglienza interna della vettura magnifica andiamo a vedere adesso le specifiche che abbiamo dentro la nostra vettura partiamo dal chilometraggio solamente 105 mila chilometri naturalmente tutti i tagliandati e quindi una vettura meccanicamente impeccabile dopo di che abbiamo il suo display centrale anche a scomparsa e ci viene scritto tutto quello che ha la vettura a partire dal suo navigatore con la cartina eccola qua il suo viva voce con il bluetooth il menu dove abbiamo tutte le caratteristiche che vogliamo della vettura le impostazioni sempre il bluetooth come vi ho già fatto vedere l'autoradio in basso abbiamo il suo autoradio con il cd l'interruttore anche per escludere il nostro start e stop climatizzatore automatico bizona cambio automatico S-tronic interruttore del freno a mano elettronico con l'aiuto con l'assistenza per il freno a mano bracciolo volante multifunzione con i suoi tasti per regolare il volume l'autoradio e tutte le nostre funzioni abbiamo poi anche il cruise control qua in basso eccolo qua naturalmente targhettina anche identificativa delle quattro ruote motrici in basso ancora altri particolari sempre il suo cerchio in lega da 17 pollici con le gomme invernali come vi avevo anticipato precedentemente sempre tutte e tutte da sfruttare luci diurne a led e adesso passiamo a vedere anche il suo mano motore anche questo molto importante con tutte le plastiche al loro posto naturalmente tutte controllate per avere una meccanica quanto più affidabile possibile anche perché le nostre vetture usate vengono sottoposte a un accurato controllo presso il nostro service Audi di conseguenza avere una vettura tutta controllata con una checklist da 110 punti specifica vengono controllate ad uno ad uno quindi la vettura deve essere completamente funzionale dopo di che ci viene abbinato 12 mesi di garanzia di legge con possibilità per il cliente di fare un'estensione a 24 mesi le nostre vetture possono essere vendute anche con pagamenti rateali a tasse acevolati con più soluzioni che vi saranno spiegate naturalmente in sede oppure alcune informazioni anche per telefono dopo questa breve presentazione passiamo ad un giro di prova su strada e nel salire sulla nostra vettura la prima cosa che notiamo è la bellezza la pulizia e quindi l'accoglienza come deve essere una vettura di questa portata a cosa serve il nostro giro di prova? serve a capire il buon funzionamento della vettura quindi tutti i suoi componenti in generale dal cambio, freni, scatola di guida, sospensioni intanto da questi primi metri io che sto guidando mi viene da notare il buon funzionamento del cambio sia in accelerazione quindi nell'aumentare delle marce che in scalata molto soffice senza alcuna alcuno strato del cambio la scatola di guida la sento molto precisa senza giochi quindi sicurezza su strada molto precisa la vettura infatti va veramente dritta come si usa dire e quindi è a posto anche sotto il profilo convergenza e assetto delle ruote nelle buche che troviamo sentiamo sì il lavoro delle sospensioni ma non c'è assolutamente nessun rumore fastidioso o anomalo quindi una vettura molto bella, compatta, ancora tutta da sfruttare e il cambio come vi dicevo prima è veramente una meraviglia le cambiate sono veramente soffici, non le sentiamo nemmeno un'altra cosa importante se abitate lontano dal nostro punto vendita possiamo fare, prendere un appuntamento specifico con voi per telefono e in diretta con una videochiamata spiegarvi e farvi vedere la vettura in ogni suo componente pregi, difetti quindi non dovete avere nessun tipo di sorpresa se deciderete di venire a vedere la macchina di persona è molto importante questa cosa quindi dopo aver capito che la vettura ha un ottimo funzionamento e quindi è tutto al suo posto torniamo al nostro punto di partenza per le ultime informazioni e a questo punto vi invitiamo a visitare il nostro sito diretto autosani.it dove troverete tutte le informazioni specifiche sull'avventura che abbiamo appena visto troverete naturalmente anche il prezzo cosa che non diciamo nel video perché non ci sembra giusto quindi visitate autosani.it seguiteci anche sui social facebook, instagram al nostro indirizzo sani moreno srl dove troverete le specifiche sui prodotti che noi presentiamo sempre su Audi e su Volkswagen anche questo molto bello e dettagliato visitate a questo punto vi ringrazio per l'attenzione vi aspettiamo presso il nostro punto vendita di Fucecchi naturalmente in tutta sicurezza oppure a telefonare ai nostri numeri che troverete sul nostro sito per darvi comunque le informazioni che desiderate un grazie ancora e come diciamo sempre alla prossima vettura grazie